Rob, sei in HD Botto di Capodanno Allora, è arrivata una collezione incredibile Incredibile, guardate qua Guardate qua Guardate qua Allora, le cose stanno così www.vinistrike.com Li stiamo pubblicando uno per uno sul nostro sito Attenzione, quando non trovate il link Vuol dire che sono stati venduti Per cui siate più veloci della luce Ok? Ciao!